Salve a tutti, breve e semplice riassunto di Giovan Battista Marino, o anche più semplicemente Gian Battista Marino, che nacque a Napoli nel 1569 ed ebbe soprattutto in gioventù una vita abbastanza sregolata e movimentata, finendo in carcere diverse volte. Il padre era un notaio e voleva che il figlio continuasse la sua professione, quindi in gioventù compì studi giuridici, ma Marino li trascurava per seguire la sua più grande passione, che era la letteratura. E si narra anche che vendesse i suoi libri di giurisprudenza per comprare quelli di letteratura. Per questo motivo il padre a un certo punto lo caccia addirittura di casa e Marino allora cercò sostegno e protezione presso altre famiglie napoletane potenti. Infatti nel 1596 è in servizio di Matteo di Capua, principe di Conca. Questa di ricercare la vita di corte per Marino sarà una costante. Infatti il suo principale obiettivo era quello di ottenere fama e successo e per ottenere queste cose era consapevole che bisognava mettersi a servizio di uomini potenti come cardinali, principi, duchi, addirittura re. Nel 1600 fu imprigionato per aver scritto un documento falso. Uscito di prigione si recò a Roma entrando a servizio del cardinal Aldo Brandini e con questo cardinale fece diversi viaggi a Ravenna, a Venezia. Poi nel 1610 si trasferì a Torino accolto con grandi onori dal duca di Savoia Carlo Emanuele I. Proprio per questo motivo suscitò l'invidia del suo segretario di corte, il poeta genovese Gaspare Murtola e questo Murtola addirittura tentò di uccidere Marino con un colpo di pistola proprio perché era geloso e invidioso di questo grande poeta, ammirato dal duca stesso. Murtola fu imprigionato ma in seguito anche Marino fu incarcerato perché si diceva che avesse scritto o comunque mettesse in giro delle maldicenze contro il duca di Savoia. Dopo un anno esce di prigione e nel 1615 si recò a Parigi presso la corte di Maria dei Medici che era la vedova del re Enrico IV e madre del re di Francia Luigi XIII. A Parigi vi rimase diversi anni e portò al termine il suo capolavoro Ladone che vediamo meglio dopo. Nel 1623 ritornò a Napoli e qui venne accolto trionfalmente con grandissimi onori come il poeta più grande della sua epoca e morì a Napoli nel 1625 all'età di 56 anni. Vediamo le opere principali. Il suo primo grande successo fu La Lira che è una raccolta di poesie e come sapete la lira è questo strumento a corde che è anche il simbolo della poesia. Si divide in tre parti e contiene diversi sonetti madrigali ricchissimi di metafore molto originali con argomento amoroso, encomeastico e sacro e uno dei suoi sonetti più famosi è Donna che si pettina. Di questo sonetto colpiscono moltissimo le tante e sorprendenti metafore, questi accostamenti ingegnosi sorprendenti che suscitano meraviglia nel lettore. Per esempio le onde dorate sono i capelli biondi della donna. La navicella d'avorio è questo pettine che solca queste onde e la poesia è piena di questi accostamenti originali nuovi e sorprendenti tra i capelli e le onde del mare con parole come onde dorate ma anche i flutti tremolanti, laureo marra e già da questo primo esempio cominciamo a capire quella che è la poetica di Marino che vuole stupire e meravigliare proprio attraverso questo largo uso di metafore nuove e sorprendenti che suscitano appunto meraviglia nel lettore. Comunque la vediamo meglio dopo questa cosa. Nel 1620 pubblica la galleria dove descrive opere d'arte reali e immaginarie. Poi c'è la sampogna che è quest'altro strumento tipico dei pastori e infatti qui troviamo raccolte di idilli mitologici e pastorali. Infine la strage degli innocenti uscita postuma di argomento religioso ma il suo capolavoro sicuramente è Ladone. Ladone pubblicato nel 1623 è un poema mitologico e canta l'amore tra la Dea Venere e il bellissimo Adone, un uomo mortale. L'opera si compone di venti canti e qui vi lascio un riassunto della trama. Si inizia con la Dea Venere che si innamora di questo bellissimo mortale Adone a causa di una freccia scagliata da Cupido che come sapete aveva il potere di far innamorare le persone con le sue frecce. Il bel giovane era addormentato. A suo risveglio vedendo Venere vorrebbe fuggire però Venere gli chiede aiuto perché si era ferita con le spine di una rosa e Adone curando la ferita della Dea a sua volta cade in amore. Nei successivi canti si narra l'iniziazione di Adone e anche le varie prove che deve superare. In particolare deve difendersi dagli attacchi del dio Marte il dio della guerra che era geloso di Venere e vorrebbe uccidere Adone. Il giovane però riesce a superare tutte le prove e alla fine viene anche nominato re di Cipro e in precedenza si era anche sposato con Venere. Alla fine però Adone verrà ucciso da un cinghiale inviato proprio da Marte ma la scena è un bizzarra perché Adone era andato a caccia e aveva scagliato contro il cinghiale una freccia però una freccia di Cupido e il cinghiale quindi si era innamorato del giovane finendo proprio per ucciderlo. Come detto il poema è composto da 20 canti e addirittura oltre 40.000 versi tanto che questo poema è il più lungo della letteratura italiana addirittura tre divine commedie. Il poema si divide inno ottave cioè strofe di otto versi e le rime sono A B A B A B C C. L'opera inoltre è dedicata al re di Francia Luigi XIII e più che l'originalità dell'opera colpisce invece lo stile molto ricercato ricchissimo di metafore, figure retoriche, arguzie e virtuosismi formali. Il linguaggio infatti è molto ricercato e raffinato e l'opera fu anche criticata dalla chiesa perché non rispettava lo spirito della controriforma e infatti finì nell'indice dei libri proibiti. E possiamo ricordare anche alcuni pezzi di quest'opera come l'elogio della rosa che abbiamo visto poc'anzi, l'elogio dedicato a Galileo Galilei e anche il canto dell'usignolo. Anche in quest'altro esempio vedete con quante immagini, con quanti accostamenti ingegnosi descrive l'usignolo, questo uccellino famoso per il suo canto. Lo descrive come sirena dei boschi, atomo sonante, voce pennuta, suon volante, vestito di penne e un vivo fiato, una piuma canora, un canto alato. Bene, tutti questi esempi che vi ho fatto servono a capire meglio la poetica di Marino che è stata definita come la poetica della meraviglia, perché la sua poesia vuole appunto stupire e meravigliare. E come lo stesso poeta scrive, è del poeta il fin la meraviglia, chi non sa far stupir vada alla striglia, cioè vada a fare altro. Come abbiamo detto Marino infatti è il maggiore esponente del barocco italiano e divenne proprio un modello imitato da altri scrittori dell'epoca, non solo in Italia ma in tutta Europa, tanto che si creò un movimento a lui ispirato definito appunto il marinismo. Brevemente vi ricordo anche che il barocco è questa corrente artistica e letteraria propria del seicento, con grandi artisti come Bernini e Borromini, ma anche Caravaggio, i pittori Fiamminghi e Velázquez. E il fine di questa letteratura e di quest'arte barocca era proprio quello di suscitare stupore e meraviglia. In generale l'arte barocca è fatta di eccessi e di bizzarrie, rifiuta quello stile armonico, equilibrato e razionale del rinascimento. Infatti dopo la rivoluzione scientifica, dopo le teorie di Galileo che vedevano il sole al centro e non più la terra, l'uomo non si sente più al centro dell'universo, cadono quelle certezze, quei valori del rinascimento e quindi si va alla ricerca del nuovo, dello stravagante, del bizzarro, dello strano, dello sorprendente appunto. Come abbiamo visto in video dedicato alla letteratura barocca, in questo periodo in poesia si va proprio alla ricerca di queste ricchissime, sorprendenti e originali metafore. Attraverso l'arguzia e l'ingegno del poeta si creano questi concetti, queste immagini nuove e sorprendenti che suscitano appunto meraviglia nel lettore. Per cui i versi sono ricchissimi di metafore e artifici retorici, l'abbiamo visto negli esempi precedenti. Non è tanto importante il contenuto quanto la forma e il linguaggio quindi è molto ricercato, nuovo, originale, che vuole rompere con le regole del passato e si rivolge proprio a un pubblico colto, capace di cogliere, di capire queste metafore, che a volte sono anche cervellotiche, una specie di indovinelli che il lettore deve riuscire a decifrare. L'abbiamo visto nel caso del pettine, navicella d'avorio, oppure dei capelli, onde dorate e così via. Un'altra famosa espressione di Marino è questa, leggere col rampino. Il rampino è questo strumento usato come gancio per fare presa, tirare oggetti a sé. E infatti scrive Marino, imparai sempre a leggere col rampino, tirando al mio proposito ciò che io trovava di buono, notandolo sul mio zibaldone. Lo zibaldone è questa sorta di diario appunti, famoso è quello di Leopardi, e servendomene a suo tempo. Quindi lui semplicemente selezionava e si appuntava quello che di buono trovava nelle sue letture, riutilizzandolo e personalizzandolo liberamente. E questa cosa se ci pensate la fate sicuramente anche voi quando leggete un libro o una poesia. Sottolineate e vi appuntate quelle espressioni che più vi colpiscono e che poi magari riutilizzerete a scuola o nella vita di tutti i giorni. Infine, per quanto riguarda il giudizio della critica, abbiamo visto che Marino fu molto apprezzato e celebrato nel Secento come il massimo poeta italiano. A partire dal Settecento però fu molto criticato come troppo superficiale e artificioso. Verrà rivalutato soltanto a partire dalla fine dell'Ottocento, ma noi dobbiamo ricordare che Marino è figlio del suo tempo e va giudicato in base a quei valori, al gusto e allo spirito del tempo. E infatti vedete che cosa scrive Marino? Io pretendo di sapere le regole più di tutti i pedanti messi insieme, ma la vera regola è saper rompere le regole, accomodandosi al costume corrente e al gusto del secolo. Esattamente quello che fa il poeta.